La Matera Arredamenti è mobili di qualità, consulenza ed emozioni. Matera Arredamenti è in via Selva San Vito 23, alla terza. Si è tenuto ieri sera in piazza Orologio a Ginosa il sit-in indetto dai cittadini aderenti al comitato centro storico di Ginosa, che s'asperati dal perdurare della situazione, continuano a rivendicare con insistenza una rapida soluzione dell'emergenza, legata, come noto, ai crolli che esattamente un anno fa interessarono via matrice. In molti furono costretti, per questioni di sicurezza, ad abbandonare le proprie abitazioni. In occasione del primo anniversario dalla Sciagura, gli stessi hanno dato vita ad una serie di iniziative, con la prima partita ieri alle 13.20 con il suono della sirena, un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema. Nel corso del sit-in di ieri sera, invece, si è fatto il punto della situazione. Annunciata intanto un'iniziativa popolare in programma per l'8 febbraio prossimo, che si svolgerà sempre su Piazza Orologio, in collaborazione con alcune associazioni del territorio. Nelle parole dei dimostranti, tutta la rabbia e l'angoscia. Desidero una sola casa, per me, per andare in bagno e potermi lavare, e non che devo andare a casa di mia figlia a farmi il bagno, perché lì dove sto il bagno è un sottoscala, c'è la doccia, ma non c'è acqua. Io ho lavorato 50 anni per quella casa, 50 anni, ricordatevelo. E sa solo Dio quante lacrime ho versato, sto versando, e verserò perché la mia vita non è più quella. Datemi la casa, e state pur certi che non vi disturberò mai più, nemmeno prima di morire. A distanza di un anno cosa chiediamo? La verità, per quanto mi riguarda, in prima persona. Per il resto, che le persone che comunque non hanno perso completamente la casa, di ritornare alle loro case, perché comunque sono stati fatti tutti con sacrifici e non è giusto che devono stare fuori così tanto tempo. E poi, per giunta, non avere una spiegazione del perché non si sta, non si rientra a casa. A me, in prima persona, non potremmo rientrare, perché comunque non c'è più. Però, almeno per gli altri, magari, che si risolva al più presto questo problema. La Matera Arredamenti è mobili di qualità, consulenza ed emozioni. Matera Arredamenti è in via Selva San Vito 23, alla terza.